Buongiorno a tutti, mi chiamo Cristina, ho conosciuto la Giglio Academy tramite internet, ho navigato e mi ricordo è stato forse Instagram e mi è comparso un video di Andrea dove spiegava, se non ricordo male, i cornetti, stava facendo qualcosa, mi sono appassionata, l'ho guardato e subito ho contattato Fiorella, c'era il numero Whatsapp, ho contattato Fiorella, è stata tempestiva, mi ha chiarito tutto e ho iniziato col corso di panificazione che a me interessa perché lavoro in un forno, è stato meraviglioso, ho scoperto tante cose, tante cose nuove, già sapevo tanto che ho scoperto cose nuove ed è stato meraviglioso, la pasticceria salata che è meravigliosa come corso e ne ho acquistato un altro, quella di pasticceria di base che devo dire che è meraviglioso, penso che ne accosterò ancora altre perché è un mondo che va scoperto piano piano e quindi penso di andare avanti. Andrea Giglio è una persona veramente preparata, ho imparato tante cose, spiega magnificamente, anche quelli che non capiscono niente riescono a capire con lui perché è molto chiaro, devo dire che mi sto trovando magnificamente, veramente, grazie a loro, ho fatto delle cose meravigliose che vi manderò anche le foto, cosa dire, andrò avanti, adesso è tempo di panettoni quindi vedrò di fare anche i grandi levitati. Grazie mille, grazie di essermi stati vicini, grazie a Fiorella che è molto tempestiva nel rispondere alle mie domande e grazie ad Andrea, veramente grazie, io lo consiglio a tutti, fatelo che è veramente fantastico, iniziate così, iniziate dalle basi, grazie.